Via dal mezzogiorno perché non c'è lavoro. In dieci anni i comuni del sud Italia hanno perso oltre 420.000 abitanti. A lanciare l'allarme è lo Svimez che ha presentato a Napoli il nuovo numero della rivista economica del mezzogiorno. Dal 2001 al 2011 Napoli ha perso 42.000 abitanti, Palermo 29.000, Tiene Bari con soli 600 abitanti in meno. I comuni del centro nord invece sono cresciuti di oltre 530.000 unità. I dati dell'Istat vanno di pari passo con quelli sull'occupazione. Nel 2013 nel mezzogiorno si è fermata al 42% contro il 63% del centro nord. Solo Bari supera la media meridionale con il 45% mentre Palermo e Napoli si fermano al 37 e al 36%. Svimez propone di puntare sulla rigenerazione urbana per rilanciare l'economia del sud. Questo concetto di intervento è un concetto molto elastico. Certo se fosse una strategia forte sicuramente avrebbe rapidi effetti. Io penso anche ai giovani laureati, non è solo per così dire la forza lavoro in termini più tradizionali. Riteniamo che la riqualificazione della città sia probabilmente determinante ai fini anche del rilancio economico della nostra regione e della nostra città in particolare.